In consiglio regionale arriva il piano dell'economia circolare, lo strumento che delinea la gestione dei rifiuti per i prossimi anni in Toscana. Lo illustra l'assessore all'ambiente Monia Monni, cambia la prospettiva, dice non più la logica dello smaltimento come tappa finale, ma massimizzazione del riciclo e del recupero. L'atto viene approvato a maggioranza, sì, di PD e Italia Viva, no, da parte di tutte le opposizioni. È un piano che guarda al futuro e che è in linea anche con le indicazioni del guardare futuro che fa l'Europa, perché è un piano che dà alcuni obiettivi importanti, quello della riduzione nella produzione dei rifiuti, della riduzione dei rifiuti che possono andare in discarica riducendoli a meno del 10% quando saremo a regime. È un piano che indica l'obiettivo di una modalità quali quantitativa migliore per quanto riguarda la raccolta differenziata e che dà degli strumenti per creare delle filiere industriali invece per il riciclo e il recupero dei rifiuti. Quindi è una risposta che verrà data alle famiglie, che verrà data all'ambiente, ma che viene data anche all'economia, perché in queste filiere industriali possono anche nascere e sorgere nuovi posti di lavoro. Noi siamo consapevoli che è una proposta importante, ma che ha ancora bisogno di alcuni perfezionamenti. C'è stato un bando che ha puntato a recepire la volontà di realizzare impianti anche innovativi che non hanno emissioni di CO2 in atmosfera. Abbiamo visto che questi impianti sono proposti in molti territori, ma mancano invece in altri territori. Il lavoro che deve essere ancora fatto è quello anche di stimolare, di accompagnare dal punto di vista politico e dal punto di vista istituzionale tutti i soggetti interessati, soprattutto le comunità d'ambito, affinché in ogni territorio ci sia una dotazione impiantistica adeguata. Ma è stata determinante nel sostenere un piano dei rifiuti che di fatto diventa un piano dell'economia circolare che noi abbiamo trasformato in piano industriale, un piano che produce lavoro, che produce energia, che produce calore, quindi fa dei rifiuti una materia prima per la produzione industriale che in Toscana era necessaria. Una Toscana che diventa solidale, dove territori importanti come Siena, Rezzo, Pisa, Livorno, Grosseto danno anche una mano solidaristica all'area della Piana Fiorentina, che non è stata in grado in questo momento di riorganizzare al proprio interno la propria definizione infrastrutturale, la Toscana che diventa una regione unica. Per questo noi abbiamo anche sostenuto una battaglia di un ambito unico territoriale. Per 5 Stelle il tema è che non decide più la politica, ma ci si è affidati ai privati. È un rovesciamento completo, invece di essere la regione toscana che ha dato delle indicazioni a seconda di quelle che erano le esigenze di smaltimento, gestione, raccolta e rifiuti, ha chiesto ai privati dove vorreste fare un impianto e in base a quello daremo un'occhiata e cercheremo di fare un piano dei rifiuti su quella impostazione. Non solo, finanziariamente l'intero piano si appoggia su alcuni aspetti e su alcuni impianti, come per esempio il gasificatore di Empoli che è stato il respinto dalla popolazione, che in pratica sovverte completamente l'equilibrio finanziario di questo piano. Insomma, probabilmente dall'adozione all'approvazione passeranno 60 giorni e dovrà essere radicalmente cambiato. In tutto questo i cittadini naturalmente si chiedono qual è il guadagno che ne avremo in termini di riduzione delle bollette, miglioramento della gestione, della raccolta e quant'altro. Probabilmente niente o addirittura un peggioramento perché all'interno di questo piano si va a inserire quel progetto drammatico della multi-utility. Il centro-destra boccia lo strumento, c'è uno squilibrio impiantistico soprattutto se consideriamo lato Toscana-Centro per Fratelli d'Italia, tre i punti nevragici che mettono a rischio il piano. Il primo, e cioè il fatto che Alia ha comunicato formalmente la rinuncia a costruire il nuovo gasificatore di Empoli. Secondo, il termovalorizzatore di Montale che assorbe 55.000 tonnellate all'anno di rifiuti all'interno del lato centro potrebbe vedere a breve una diversa utilizzazione. Il terzo, perché il piano prevede la possibilità di trasformare le discariche di rifiuti speciali in rifiuti ordinari, come li chiamo io, cioè rifiuti urbani, prevede per esempio fra le altre ipotesi Serravalle, ma il comune Serravalle Pistoiese con un ordine del giorno sottoscritto da maggioranza opposizione è contrario a queste ipotesi. Questo significa che a fronte di un ato in squilibrio strutturale che porta i propri rifiuti un po' all'estero, un po' in altre regioni e fuori ambito, cioè a Peccioli, non si sono trovate ad oggi soluzioni adeguate e quindi questo piano secondo noi non risolve questo e molti altri problemi e abbiamo chiesto di rinviarlo. Un piano da riscrivere, dice la Lega. Il piano è un piano che non è coraggioso, non fa una scelta di pianificazione, nascondendosi un po' dietro le norme, ma in realtà a nostro avviso, come ho detto in aula, l'articolo 199 della legge 2006 ci permetteva ampiamente di dare più supporto alle amministrazioni locali, alle comunità, agli ato, per dare una direzione che servisse anche ad affrontare le difficoltà di quando si scende a terra con determinate tematiche su chi poi questi impianti si ritrova a casa. In secondo luogo c'è un impatto molto ideologico, contrario ai termo valorizzatori, ma ahimè gli impianti nuovi a cui si guarda anche attraverso l'avviso pubblico sono impianti poco conosciuti, difficilmente realizzati, ce ne sono pochissimi esempi, quindi si sa poco di questi impianti, non c'è una concreta fattibilità sul campo. Una richiesta di modifiche però arriva anche da parte dei consiglieri di maggioranza, lo stesso Presidente del Consiglio. Ritengo che il piano dei rifiuti abbia necessità dal momento dell'adozione all'approvazione di significative migliorie. Io apprezzo molto e ho fiducia nelle parole del Presidente Gianni. Noi non possiamo pensare, come ha detto il collega Pieroni, come ha detto il Sindaco di Livorno Salvetti, che ci sia un pezzo di Toscana che produce ed un pezzo di Toscana che smaltisce. Ci deve essere un equilibrio di ambito. È vero, questa è una manifestazione di interessi che non prevede localizzazioni. Però nel caso in cui c'è ancora questa differenza, cioè lato centrale non è in grado di saper fare proposte di impianti perché le imprese non le fanno, io penso che la Giunta dovrebbe prendersi carico di ridurre questa disuguaglianza. Adesso la fase delle osservazioni e delle risposte. Un momento cruciale di confronto con tutti i portatori di interesse, sottolinea la Presidente della Commissione Ambiente. Dobbiamo capire in questi 60 giorni che ci dividono dall'approvazione del piano dei rifiuti perché a seconda di quante e quali osservazioni arriveranno significa che abbiamo o non abbiamo centrato l'idea di Toscana che vogliamo. Quindi si apre ora un confronto importante che faremo come consiglieri. Andremo sui territori, continueremo ad ascoltare i portatori di interesse e capiremo se dobbiamo, se possiamo, se vogliamo modificare ancora questo piano che arriva al 2035, quindi insomma è lontano. Il fondo Oriana Fallaci è una ricchezza per tutta la Toscana, è una ricchezza per tutti noi e allora consentitemi subito di ringraziare il nipote che ha permesso di mettere a disposizione i suoi iscritti, anche quelli ancora non noti, alle cittadine e ai cittadini della nostra regione. Permettetemi di ringraziare le curatrici, hanno fatto un lavoro enorme e io vorrei rilanciarlo questo lavoro, vorrei provare a fare in modo che questi iscritti potessero essere tutti digitalizzati per permettere ai cittadini del mondo di poter accedere a un archivio che è unico. Il valore della libertà, dice il Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo nel presentare la novità legata al Fondo Oriana Fallaci del Consiglio regionale. Archivio ricchissimo tra i tre più importanti al mondo e già disponibile al pubblico dal 2019. Da oggi diventa pienamente accessibile grazie al volume Il Cuore in Toscana, il Fondo Oriana Fallaci, inventario archivistico e catalogo bibliografico. Un volume a cura di Katia Ferri, Elena Michelagnoli e Monica Valentini con inventario archivistico di Margherita Cricchio e Agnese Lorenzini. Però a questo punto con questa pubblicazione, che tra l'altro è anche in formato digitale sul nostro sito, è possibile per chiunque, quindi non solo studiosi ma anche curiosi, appassionati, amanti della scrittura di Oriana Fallaci, vedere che cosa possediamo e fare eventualmente richiesta per consultare questo materiale. Trovate tutte le indicazioni sui nostri siti. Ci sono due pagine dedicate, una della biblioteca e una del Consiglio e c'è un indirizzo mail comune al quale fa riferimento per qualsiasi informazione, anche per ricerche che noi possiamo fare a distanza. L'indirizzo è fondofallaci.chiocciolaconsiglio.regione.toscana.it Quattro anni di lavoro per inventariare, catalogare, descrivere e riordinare quasi 2.000 documenti che costituiscono il fondo, il materiale archivistico, i libri e gli oggetti personali che si trovavano nella sua abitazione di caso alle località di greve e inchianti e che furono donati al Consiglio regionale nel 2016 dall'erede Edoardo Perazzi. Sentiamo molto questa giornata perché l'archivio rappresenta un passo fondamentale per mettere a disposizione il lavoro di Oriana e anche in certo senso parte della sua vita perché gli oggetti contenuti nel fondo, i suoi scritti personali, le lettere sono evocativi e servono molto a capire come questa donna non solo lavorava ma anche come ragionava e come era fatta, quanto era legata alla sua famiglia e a questa città naturalmente. E poi finalmente è un modo di lavorare snello e a disposizione di tutti. Abbiamo volutamente scelto di lasciare qui a Firenze, mi odieranno gli altri fondi ma più materiale rispetto alla Boston University e alla Fondazione del CS Corriere della Sera perché è parso giusto così, perché Firenze è la sua città e il lavoro e gli spazi messi a disposizione dalla Biblioteca del Consiglio regionale della Toscana sono straordinari. Il progetto del Fondo Fallaci è nato nel 2006 dopo la scomparsa della scrittrice ed è stato portato avanti con convinzione dall'allora Presidente del Consiglio regionale, Riccardo Nencini. Tutti i viaggi, diceva Cavafis, sono straordinari perché più della meta importa appunto il viaggio. In questo caso però la meta è decisiva. Abbiamo cominciato molti anni fa, nel 2005-2006, quando Oriana è morta. Complimenti al Presidente attuale che ha chiuso una bella odissea. Un racconto realizzato con il filtro di Oriana Fallaci, sottolinea Diana Toccafondi, Presidente del Comitato Tecnico Scientifico per gli Archivi del Ministero della Cultura. Sicuramente un archivio che racconta Oriana Fallaci, che Oriana Fallaci ha voluto, quindi che porta il filtro anche della sua volontà di memoria, di se stessa, del lavoro che ha fatto, del mondo che ha visto e quindi anche del mondo come l'ha interpretato. Ed è un archivio che racconta non solo Oriana Fallaci, ma racconta una parte del Novecento, attraverso le interviste, attraverso i materiali, attraverso anche i materiali sonori. Da un certo punto di vista è la voce del Novecento. Nella strada del Consiglio regionale a Palazzo del Pegaso a Firenze si è tenuta la Stakeholder Consultation. Report annuale delle politiche di concorrenza europee presenti, il Presidente del Consiglio regionale Mazzeo Bugetti, Presidente Commissione Sviluppo Economico, Agno Lucci, ricercatrice Università Bocconi ed esperta della redazione del Parere, Gazzetti, Presidente Commissione Politiche Europee. Il Presidente Mazzeo parla di come porta la voce della Toscana in Europa grazie al lavoro intenso insieme agli stakeholder della nostra regione per andare a costruire soluzioni e progetti inerenti alla concorrenza che fa parte della vita di tutti i nostri cittadini. Ho sempre detto che volevo essere la voce della Toscana nel Comitato delle Regioni, in Europa e per questo ho voluto confrontarmi con gli stakeholder del territorio, con chi ogni giorno questi temi li vive, con le imprese, con i sindacati. A loro va il grazie, grazie per i suggerimenti e gli spunti che mi stanno e ci stanno dando. Lo stessa iniziativa l'avevo fatta a livello europeo. A me piace costruire pareri, risoluzioni che partano dalle istanze, delle imprese e dei cittadini. Il tema della concorrenza è un tema difficile, che sembra lontano dalle vite delle persone. Invece voglio dire alle cittadine e ai cittadini toscani che è un tema della nostra vita, perché se uno Stato europeo ha più margini, più possibilità di concedere aiuti di Stato, vuol dire che un'impresa che compete con una nostra impresa sul territorio può essere favorita. Se viene favorita vuol dire che un'impresa del nostro territorio rischia di poter perdere lavoro, occupazione. Invece, in questo parere, io chiedo che gli aiuti di Stato non vadano a discapito della coesione territoriale. È necessario che ci teniamo insieme, che ci sia supporto, ci sia generosità da parte di tutti. Ed è quello che ho chiesto anche ai componenti dei Paesi che hanno più forza in questo momento. Ad oggi questo dialogo è un dialogo aperto. Mi piacerebbe che il 17, il 18, quando andiamo a provare questo parere, venga votato da tutti, senza distinzione di colore politico, senza distinzione di territori. Perché guardate che anche all'interno dei territori che hanno più capacità fiscale, più forza, penso alla Germania, ci sono anche territori che soffrono. E quindi è interesse anche loro che le disuguaglianze si riducano invece di ampliarsi. E questo ascolto di oggi per me è stato molto importante. Davvero una grande partecipazione nel tessuto economico, sociale e produttivo, che mi dice che il metodo, la strada è quella giusta. Anche la Presidente Bugetti parla di come sia importante interagire con l'Europa per lo sviluppo generale grazie ai fondi di investimento europei. È un tema che sembra lontano quello dell'Europa, ma che tocca la vita di tutti i cittadini e di tutte le imprese della nostra regione, che sono particolari perché sono piccole e medie imprese, a volte micro imprese, che hanno bisogno di essere strutturate. I fondi dell'Europa in questa regione, anche storicamente, sono stati determinanti per far crescere molte delle aziende, le start-up, ma non solo, e anche per eliminare o correggere alcune politiche che potevano essere a vantaggio solo dei più grandi e meno dei più piccoli. Quindi noi, con queste mattinate e con questo ascolto, proviamo a portare in Europa, sul tavolo sia del Parlamento che della Commissione, delle politiche che siano a misura di regione, a misura di Toscana, ma anche a misura di cittadino, per consentire lo sviluppo del nostro territorio. La dottoressa Agnolucci fa il punto sul report della concorrenza. Il parere si compone di più parti. Nelle parti della concorrenza illustriamo alcuni strumenti che sono stati illustrati dalla Commissione durante questi ultimi mesi, come il Digital Market Act, che va a regolare i gatekeeper digitali affinché si crei un mercato digitale eco e competitivo. Il regolamento sui sussidi esteri, che è importante perché individua quelle imprese che ricevono aiuti da parte di stati esteri, andando a inficiare sulla concorrenza europea. Ma la parte centrale del nostro progetto di parere è quella sul tema degli aiuti di Stato. E noi auspichiamo una riforma strutturale che vada ad assistere anche gli investimenti strategici in tema di politica industriale. E in ultimo la proposta STEP. Facciamo ragionamento sul fatto che non deve dipendere da una riallocazione di fondi già stanziate alla coesione, ma da fondi indipendenti e mirati proprio all'industria e all'innovazione. Momento di confronto importante, sottolineato anche dal Presidente della Commissione Europa, Gazzetti. Il tema della concorrenza è un tema che attraversa tantissimi ambiti della nostra vita economica e anche produttiva e sicuramente insomma quelle cose che sono emerse nel corso del dibattito saranno utili al Presidente Mazzeo, ma anche alle attività che cercheremo di portare avanti ancora di più con ancora maggiore determinazione sia all'interno della Commissione Europa e come sicuramente avrà detto la Presidente Bugetti anche insieme della Seconda Commissione.